che cazzo è? sul treno davanti lì oh cazzo oh cazzo da sinistra ce n'è un altro non lo so dove ma è oh cecchino da cosa 19 19 19? cazzo è vero ho trovato un veicolo sembra buono beh no dietro 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 no lasciate stare che tenista cacarella io non c'ho il cecchino terra uuu mamma eh oh resta resta pittu resta